Buone notizie in arrivo per la Valtiberina, territorio che continua a soffrire per la vicenda del viadotto Puleto lungo la E45, sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio per rischio collasso ed ancora chiuso ai mezzi pesanti. Il Ministero dei Trasporti ha infatti risposto alle lettere dell'assessorato regionale alle infrastrutture, comunicando che ANAS ha completato il progetto esegutivo per il ripristino del tratto stradale relativo al comune di Pieve Santo Stefano. La stessa lettera inoltre informa del fatto che il procedimento per il ritorno alla competenza statale della Valtiberina Trebis è stato avviato, si tratta dell'unica strada alternativa alla E45. Grande soddisfazione da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che si è detto contento che il Ministero mantenga gli impegni presi sia relativamente alla E45 che alla Tiberina Trebis, che finalmente potrà tornare nelle competenze di ANAS, essere riaperta al traffico ed avere la manutenzione di cui necessita. Ora, conclude Ceccarelli, si aspettano risposte anche per quanto riguarda il ristoro dei danni subiti. Intanto giovedì prossimo sarà il giorno della superperizia sul viadotto Puleto, sarà infatti svolto il sopralluogo per l'incidente probatorio da parte del consulente del GIP del Tribunale di Arezzo, il professor Claudio Modena. Se sarà sufficiente, ANAS potrà poi ultimare i lavori di sistemazione e la conseguente riapertura del tratto a tir e camion. Lo scopo della perizia è quello di verificare se c'è stata realmente un'omessa manutenzione, come ipotizza il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, con i cinque avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti tecnici dell'ANAS, oppure, se ad aver ragione, è la società che sostiene che la situazione attuale del viadotto non sia pericolosa.